Vi stupiremo con effetti speciali. A Teramo c'è il primo manifesto in 3D, ma in realtà anche le elezioni sono in tre dimensioni. Venite con noi, andiamo a intervistare l'uomo dei sogni. Eccoci! Allora abbiamo inventato il primo manifesto elettorale nella storia delle elezioni italiane. Il manifesto elettorale non proprio, è un depliant a treande dove Teramo vive e spiegherà i punti cardine della propria proposta, del proprio programma. L'idea è così, un piccolo gioco, un piccolo momento di divertimento dove stamperemo 100 copie di questo pieghevole che sarà visibile con gli occhialettini 3D. Ma metteremo anche la croce nell'urna in 3D? Beh, sarebbe anche un'idea, non sarebbe male come proposta, sarebbe da farla. No, noi Teramo vive, stiamo cercando di fare una campagna elettorale più leggera, più simpatica, parlando comunque sempre di cose serie e in maniera concreta. Con le proprie fattibilità e con una progettualità ampia in visione e in previsione di un futuro migliore per la città. Lei ha dato anche su Facebook una pillola del manifesto culturale. Parliamo di rinascimento. Avremo modo di poter, non so, trovare anche un Leonardo vicino a noi in tre dimensioni. Teramo avrà un'altra dimensione, finalmente quella culturale, che si è smarrita nel corso degli ultimi 30 anni. Allora, il discorso rinascimento che cito nel programma esposto sulla mia pagina Facebook è un esempio di come dovrebbe funzionare la struttura che ho in mente per riportare la cultura a tema. Perché spesso bisogna specificare che la cultura, come la intendo io, è la cultura che va divulgata ed educata alle nuove generazioni. Non è la semplice manifestazione, è il semplice evento culturale. Dare un coordinamento scolastico, riportare con sé le università e renderla protagonista in città. E in più utilizzare un tema, come ho fatto l'esempio, del rinascimento, dove ci sono grandissime artisti che hanno rivoluzionato il mondo dell'arte e non solo della letteratura. Per avere degli spunti di poterli rienterpretare in chiave moderna. Guardi un attimo, stanno passando a dei bambini. Se dovesse spiegare la sua termo immaginaria, quale fumetto gli dedicherebbe? Superman. Per quale motivo? Perché ha l'innocenza di un bambino, ha la forza di un super uomo e quindi ha le possibilità di poter fare qualsiasi cosa. Ma sa sempre quella la scelta giusta. E l'ignoranza rimane sempre la criptonite. E quello purtroppo esiste, c'è sempre un yin e lo yang.